Michelle Hansiker ed Eros Ramazzotti, una coppia che continua a far sognare milioni di fan. Il loro matrimonio da favola ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che li hanno ammirati insieme. Le ultime foto che li ritraggono insieme durante il compleanno del cantante sono state pubblicate da diva e donna e hanno scatenato l'entusiasmo dei fan. Risate, complicità e tanto affetto tra i due che sembrano più vicini che mai. Eros Ramazzotti ha voluto accanto a sé per il suo sessantunesimo compleanno anche la sua ex moglie Michelle Hunziker. I due trascorrono molto tempo insieme, legati anche dalla figlia che li unisce e dall'amore per il nipotino Cesare Augusto. Le foto che li ritraggono insieme durante i festeggiamenti hanno riacceso la speranza dei fan che continuano a sognare un ritorno di fiamma tra i due. La loro complicità è evidente in ogni occasione, dalla nascita del nipote ai compleanni di famiglia, dalle vacanze estive alle serate in montagna. Anche in tv, durante la trasmissione Michel Impossible, hanno dimostrato di mantenere un rapporto speciale, fatto di amicizia, rispetto e profondo legame. Se ci sarà un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, non è dato sapere, ma una cosa è certa. La loro storia continua a emozionare e a far sognare i fan. Resta aggiornato sulle ultime news su tv, personaggi e gossip.